... Mister, io volevo ringraziarvi e volevo fare un applauso al colono perché a fine partita avete perso, ma anche il criminale perché avete sbattuto il gol del 2 a 2 e cose del genere, ma quando c'è una scuola di etico, c'è una società importante, si vedono i ragazzi che stringono la mano agli avversari e questo mi ha fatto venire la pelle d'orca perché con quello che ho sentito in certe partite, in tribuna, a certa gente, veramente io ti faccio i complimenti innanzitutto per questo e credo che sia determinante e importante perché è vero che bisogna insegnare a giocare a pallone ma bisogna insegnare anche a educazione e io vi ringrazio per l'esempio che state dando. Infatti mi dispiace essere uscito e mi dispiace quando c'è stato il sorteggio aveva beccato una squadra così perché sapevo che sarebbe stata dura anche perché poi nella partita abbiamo visto che il 3 a 1 è un po' esagerato nel senso che abbiamo avuto l'occasione di fare il 2 a 2, il rigore, stavamo anche forse all'inizio del secondo tempo giocando meglio, poi ci ha demoralizzato dopo abbiamo preso il 3 a 1, la partita è finita. Mi dispiace perché quest'anno ci tenavamo a arrivare nelle finali e penso che forse magari… Io ho detto stasera, se lo chiedi a qualcuno, questo profuma il finale anticipato. Eh, purtroppo dopo i sorteggi sono così… L'anno scorso, se ti ricordi, abbiamo fatto anche il quarto con la Picardo, sempre ricordi sbagliato. E anche lì avevamo fatto la stessa… Due a due, ci sta andando, ho sentato male. Sempre la stessa volta. Sempre la stessa volta, sì. No, comunque, va bene, mi fa piacere che mi siate accorti che insomma, io ai due anni che sono a Colorno, tento sempre di inculcare una cultura calcistica, le partite si vincono, si perdono, l'avversario è stato più bravo a concretizzare di più. Noi… andiamo a casa, ammaricati, ci sarebbe piaciuto disputare almeno le finali, vedremo. Io vi ringrazio, vi dico che… ne avete sempre parlato del gioco della tua squadra, che a tratti ha davvero impressionato. D'altronde il calcio è questo, i sorteggi sono questi, quindi è logico che questa squadra, vi parlo di Fiorenzuola, è cresciuto di partita in partita molto, 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 anche stasera credo che abbia disputato forse la sua migliore partita. Dopo penso che ci sia anche un ritmo un po' diverso, magari loro hanno finito il campionato un po' dopo… E comunque fare un campionato nazionale magari ti migliora nell'intensità… Poi hanno tanti bravi ragazzi, tra l'altro c'è anche il fatto che si vedono pochi direttori sportivi di Parma in tribuna o che li conoscono tutti… tra l'altro loro ne hanno due o tre che arrivano dalle nostre parti, quindi potrebbero essere oggetti… Mi dicevano i ragazzi che l'ultimo che ci ha condannato quello che ha fatto gol 3-1 è Colonna… giocava Colonna, adesso non so per quale motivo… Ok, però per dirti… è strano anche questa cosa, perché loro di solito dovrebbero rinnovarsi quest'altro anno, perché non credo che questi siano quelli che poi giocheranno… hanno giocato negli minori nazionali, perché ho visto gli anni… però vabbè sì… Forse… ci stanno ancora… Non ci sta ancora secondo me… Niente, mister… Dai, vi ringrazio, ci rivediamo quest'altro anno, noi siamo molto contenti di avervi perché io amo il calcio, amo vedere giocare le partite, però anche molto, ma molto, molto il lato educativo… E questo… ci lavoriamo su tutte le cose, sia per giocare a calcio che sul lato educativo… I ragazzi, se i miei e quell'altra squadra l'hanno combattuto lealmente… E vabbè, la partita è stata bella per chi l'ha vista… Molto bella… Noi siamo un po' rammaricati perché avremmo voluto passare… Però se passa uno e basta… Passo un po' queste pene cofine… Ciao, ministra… Grazie, ciao… Ciao, ministra, una vittoria che ci sta tutta… Bella, anche se non ho sbagliato il rigore del 2-2, ma tu l'hai sbagliato un paio di volte due o tre gol importanti… Abbiamo parlato con il mister del Colono, io gli ho fatto i complimenti a loro, ma logicamente anche voi, perché a fine partita è stato veramente bello e lì si vede l'educazione delle società importanti… Vi siete salutati… Anche adesso vi siete dati da mano… Questo per me è il calcio che deve essere il calcio insegnato dai giovani e che deve… Poi dopo quello che succede lo sappiamo tutti… Però se si comincia così credo che il passo sia molto importante… Oltretutto senza dimenticare che sono davvero due belle squadre… La tua è cresciuta in maniera esponenziale… Io stasera contro una squadra molto forte ho visto davvero una bella squadra… Hai 4-5 giocatori importantissimi secondo me a livello giovanile… E' divertente anche… Ti avevo già ringraziato le altre volte… Te lo dico anche adesso… E io non sono uno che fa complimenti… Ma è difficile… Infatti rimarranno un po'… Chi mi segue rimarrà un po' al limite… Perché io di solito… I generatori li do giù… Invece… Davvero… Complimenti… Sì… Noi… Come ti dicevo le altre volte… Il nostro motto è giocare a pallone… Giocare a calcio… Partire se si può anche col gioco da dietro… E poi proporre gioco sempre… Cercare di buttare via il meno possibile la palla… Però giocare anche con intensità… E velocità… Perché tu quando ribatti il fronte che parti da dietro… Lo fai con una velocità che è impressionante… E in 5-6 uomini… Non in 1… Sì… Oggi hanno fatto una bella gara… Contro una squadra effettivamente… Che ci ha dato molto filo da torcere… Soprattutto dal punto di vista fisico… Perché allora erano ben piazzati… Erano dei ragazzi fisicamente ben messi… Però penso che noi abbiamo meritato… Abbiamo sbagliato… 4-5 occasioni da gol clamorose… Poi nel calcio ci sta… Si poteva anche subire poi il calcio di rigore… E rimettere i piedi ancora la partita… Però poi è andata bene… Soprattutto al primo tempo abbiamo fatto bene… Ci siamo calati magari un quarto d'ora… All'inizio del secondo tempo… Un po' ecco… Poi però abbiamo ripreso in mano… Il gioco… A me piace che la squadra giochi… Oggi ha giocato… E quindi sono contento… Sì ecco… Io speravo di rivedere quella ciclo… Cosa… Perché non c'era quella ciclo… È infortunato… Ah… Me l'hanno rotto… È infortunato… Ieri ha giocato con la sua squadra… Ha avuto… Ha avuto… Una distorsione alla cabina… Ah… Niente mister… Ci vediamo in semifinale… Adesso… Di là stanno facendo i sorteggi… E quindi ci diremo che incontri… E complimenti ancora… Bella consiglio di pubblico… Bella partita… E grazie… Grazie a voi… Ok…